Stéblounik 62, il passaggio ai 400, Stéblounik cerca lo spazio per buttarsi alla corda, rimane in settima posizione, attenzione si sgomita, si rischia di cadere anche Costopoulou, rimane in prima posizione, Stéblounik non riesce a passarle davanti, Severin Fulon in terza posizione, perde un po' di terreno Elisarea, adesso allunga Stéblounik, Elisarea deve trovare il contatto con la Marocchia, davvero combattente, la greca che non la lascia passare. Solora Stéblounik trova il passo superiore per passare, mentre Elisarea resta al settimo posto, un po' staccata, ecco Stéblounik, Slovena, la Slovena dietro Severin Fulon, Hasna Benassi, Marocchina, combatte in corsia esterna, in seconda corsia, mentre ancora la greca in lotta per una medaglia, il primo posto di Stéblounik messo a dura prova dalla Marocchina, Stéblounik o Benassi, Stéblounik Slovenia o Benassi, alla meglio Benassi, Benassi si, 3-0-3-70 qualcosa davanti all'atleta.